In evidenza. Prosegue l'impegno del Consiglio regionale a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. La nostra raccolta fondi sta andando alla grande. Abbiamo raccolto quasi 130.000 euro attraverso il conto delle poste italiane e le offerte che i piemontesi hanno fatto sul nostro conto attraverso l'Iban bancario. L'obiettivo che ci poniamo è di raccogliere ancora in genti fonti perché vogliamo che la solidarietà del Piemonte, la generosità del Piemonte si possa trasformare presto in opere e in soluzione di problemi di donne e uomini che stanno veramente vivendo un momento difficile in una regione a noi amica, a noi vicina, l'Emilia-Romagna.